Ciao, la novità letteraria che ti presento è un romanzo giallo in cui il commissario Livia sta affrontando una situazione di crisi senza precedenti. Le indagini stanno procedendo al rilento. Il peso delle responsabilità sta iniziando a farsi sentire. Occorre trovare l'equilibrio perfetto per attraversare la situazione senza cadere e mantenere tutto in piedi, inclusa la sua vita sentimentale. La trama del libro Equilibri, una nuova indagine per il commissario Livia di Silvestra Sorbera, edito da Silvestra Sorbera, è la seguente. L'Italia è in zona rossa e il commissario Livia, nella sua porto scogliera, ha da poco arrestato il primo cittadino e parte della giunta. Le indagini proseguono al rilento e Livia senta addosso il peso delle responsabilità più che mai. Come un funambolo dovrà riuscire ad arrivare dall'altra parte senza cadere tenendo in piedi tutto, vita sentimentale compresa. Che riuscirà a rimanere sulla corda tesa tra il dovere e la passione? Il libro è in vendita in tutti gli stori e le librerie, grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.